Grazie a tutti. Il weekend è mediamente molto positivo per le squadre giovanili parmense impegnate nei campionati regionali. Segnaliamo innanzitutto la vittoria dell'Under 18 femminile della Parma Volley Academy per 3-0 in casa del Castenaso Volley Bologna. In questa maniera le ragazze di Guadalupe hanno fatto un passo decisivo verso la finale regionale, che con ogni probabilità si disputerà a Parma verso la fine di maggio. Disco rosso invece per il Parma Scensore sconfitto per 3-0 dall'idea volley. Pur sconfitto per 3-2 l'Energy Volley Under 16 maschile è riuscito a conquistare il punto necessario per accedere alla fase finale regionale. Sempre nell'Under 16 maschile registriamo anche la vittoria per 3-0 del bussetto su San Paolo-Biacenza. Vittoria ancora per 3-0 anche per le Coppe Rosse, che in questa maniera hanno vinto il proprio girone e conquistato l'accesso alla fase finale regionale. In questa maniera le ragazze di Enrichiello, che sentiremo più avanti in un'intervista, continuano nella loro marcia da imbattute a livello giovanile e di terza divisione. Nell'Under 14 maschile vittoria per 3-0 dell'Energy sempre su San Paolo-Piacenza. E ancora per 3-0 sempre su San Paolo-Piacenza registriamo anche la vittoria della Copa Arcobaleno, che in questa maniera ha conquistato la fase finale regionale. Grazie a questa vittoria siamo contenti di poter comunicare che il Comitato Provinciale ha dovuto fare slittare le data per le semifinali e finali del campionato Under 14 Provinciale. In prima divisione maschile abbiamo finalmente i nomi delle squadre che accedono ai play-off. Si tratta dell'Audax, dell'Inzani, dell'Energy Volley Claudio, del Cerchio Sorania e del GS Tartaruga. Con grande piacere, soddisfazione e anche orgoglio comunichiamo che a seguito della cena del Torneo Chiesi sono stati raccolti 1.300 euro e che gli organizzatori hanno potuto donare all'Associazione Emiliana Fibrosi Cistica per aiutare il piccolo Francesco. Sicuramente si tratta di un'iniziativa lodevole e che anche se ha avuto poca pubblicità a livello mediatico provinciale e che riteniamo sia tra le cose più belle di questo periodo. È stato inoltre deciso e stabilita la data del Volley Day 2012. Sarà infatti il 3 giugno presso il campus universitario che si disputerà ormai questo evento diventato tradizione nella pallavolo parmigiana. Nell'ambito della giornata si comincerà con l'annunciato torneo di minivolle la mattina, ultima tappa del circuito Geosec minivolle provinciale. E a seguire, oltre a uno spazio per poter mangiare, poter fermarsi, poter fare un po' di feste insieme, verranno aggiunte anche, sempre all'interno del campus universitario, alcune finali provinciali che completeranno la grande festa del Volley Day. Sempre a proposito di minivolle, segnaliamo che questa settimana, in particolare domenica prossima, alle 9.15 si troveranno tutti i ragazzi del circuito provinciale Geosec per l'oramai consueto appuntamento di Busseto. Sono aperte inoltre le iscrizioni per il torneo di sala del 6 maggio e segnaliamo che il professor del chicca sta organizzando extra circuito un appuntamento per il primo maggio in Cittadella per i ragazzi di prima, seconda e terza elementare che potranno cimentarsi nel gioco volley. Per quanto riguarda i tornei estivi, ieri sera, domenica sera diciamo, si è svolta all'interno della sede FIPAV un'importante riunione organizzata dalla stessa FIPAV e dalla PAPARA, Associazione Parmense e Palavolisti Parmense, con tutti gli organizzatori dei tornei estivi, quelli che fino all'anno scorso erano raggruppati sotto le agita del Summer Tour. All'interno della riunione, a cui hanno partecipato numerosissimi tutti gli invitati, forse a eccezione di un singolo torneo che non è riuscito a mandare al cuore al rappresentante, c'è stata un'animata, costruttiva, soprattutto interessantissima discussione, nel quale tutti sono dimostrati molto propositivi e interessati a cercare di costruire insieme e mandare avanti un progetto sempre migliore. Per ora possiamo solamente comunicare che verrà confermata, anche per la stagione 2012, la richiesta dei certificati medici obbligatori. Gli ultimi fatti di cronaca, tanto palavolistica quanto calcistica, invitano ad avere sempre maggiore attenzione a quello che riguarda i controlli preventivi. E a breve, gli stessi organizzatori, tramite una serie di incontri via internet o scambi e mail in liste, comunicheranno se riusciranno a mandare avanti, anche per questa stagione, il discorso del Summer Tour inteso come circuito. In ogni caso sono confermati già da adesso tutti i principali tornei storici della nostra provincia. Infine, sempre a proposito della riunione sui tornei estivi, ricordo che è possibile inviare due minuti di presentazione di ogni singolo torneo e 15 secondi di spot che possono venire mandati a ripetizione all'interno di questo TG. E sempre a proposito di questo TG, invitiamo tutti quanti, in questo caso in particolare gli organizzatori dei tornei, a inserire i propri amici di Facebook all'interno del gruppo di questo telegiornale e a condividere le edizioni stesse all'interno dei propri profili. Gli invito quest'ultimo della condivisione che, ancora una volta, estendiamo a tutti quanti, sempre facendo presente che il successo di questo telegiornale, lo dimostrano i numeri, è direttamente proporzionale al numero delle condivisioni. Grazie. Eccolo qua, la belva umana. Oh, la belva umana sono. Andrea Brianti, sottoposto, è il suo turno per il terzo grado. In questo caso qui invece che uno solo a fare domande, sarebbe più di uno a massacrarlo. Sarà un piacere rispondervi a tono. Prima domanda, quando ti sponso? Ecco, questa è già una bella domanda. Beh, io sono abbastanza intenzionato a dire mai. Purtroppo la controparte mi rema molto contro, quindi dovremmo trovare un compromesso. Tra il mai e subito, fra una ventina d'anni potrebbe andare bene, potrebbe essere un buon termine. Cos'è presto? Cos'è? Così presto? Sì, sono troppo giovane per sposarmi. In una donna guardi il lato A o il lato B? Lato A. Lato A, rigorosamente. Mi sapresti dire la formazione dell'Italia che ha vinto il mondiale del 90? Di calcio? Di calcio? Di calcio non vi ha vinto. Mi ricordo quella dell'82. Di pallavolo. Di pallavolo nel 90. Nel 90, allora, no, Coba non c'era, secondo me aveva già smesso di giocare nel 90. O quasi, no, non aveva smesso. Allora, nel 90, sì, sì, comunque sì. Allora, nel 90 è stato il primo mondiale vinto dall'Italia. Toffoli al palleggio, Zorzi al posto, Lucchetta e Gardini al centro, Bernardi e Cantagalli di banda, solo vi dico anche le riserve, che erano Martinelli, doppio cambio, assieme a De Giorgi, giusto? Eh, l'ho detto già giusto. C'era Gianni e Masciarelli come terzo e quarto centrale, e Bracci e, 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 e chi era l'altra banda? Oh, che miseria. Allora, l'altra banda è Anastasi. Ah, no. È Anastasi. Allora, altra domanda. Che ci ho anche giocato assieme, fa te. Qual è quello in cui in assoluto sei riuscito ad avere più successo? E non parliamo chiaramente di vita. Vabbè, anche perché quello più successo, no, devo dire che in molti casi ho fatto combaciare il successo a quello che intendi tu, però probabilmente l'uno più uno beach volley mi ha dato discrete soddisfazioni. Qual è stata la giornata che puoi battezzare come perfetta in uno dei torni estivi? Doppietta. Eh, doppietta. Allora, diciamo che è stato un campora, ma non posso dire di quale anno, se no è un problema, è un problema. Però non l'ultimo campora, diciamo un po' più indietro, il penultimo. Se dovessi rinascere, se dovessi rinascere il modello Joe Tempest? Oppure un modello tipo, chissà, un Ligabue? No, tutta la vita da Joe Tempest, Ligabue non lo reggo. Quindi capellone biondo a... Sì, assolutamente. E' un'ultima di Bon Jovi? Beh, a Bon Jovi quando era cotonato negli anni Ottanta non c'entra in molto, assolutamente. Allora, come voce tu hai un cantante che riusci ad assomigliare di più rispetto ad altri? Guarda, uno che canti così male non l'hanno ancora fatto, però diciamo che prendiamo di ligo le tonalità alte, di conseguenza di italiani potrei dirti NEC, di stranieri potrei dirti Joy Tempest. E quando canti le canzoni di tutti? Ecco. Medesimi nell'uomo o... O nella donna? No, scusa. O di... Cioè, tu cerchi di entrare nel personaggio o canti semplicemente la canzone? No, canto semplicemente la canzone anche perché la cosa più brutta che possa fare un cantante, cioè un coverista, cioè uno che fa le cover come faccio io, come ho fatto io, ormai non canto più, è cercare di imitare l'originale, perché ti viene sicuramente male. In una bella donna dopo quanto tempo la guarda negli occhi? Dunque, diciamo che io guardo molto l'insieme, gli occhi nello specifico fanno parte dell'insieme, ma se mi chiedi il colore lo guardo probabilmente dopo due o tre uscite. Il colore agli occhi, la Veronica. Azzurri. Ok, se dovessi andare in un posto con lei, in un posto in cui ti fermi tutta la vita con lei, solo con lei, quale altro amico ti porteresti dietro, sicuro che non te ne insidi? Allora, quale amico potrei portarmi dietro sicurissimo che non me ne vai a insidiare? Beh, ventrelli. E se dovessi partire invece con un amico per un'isola deserta? Che, sicuro che non mi insidi a me. Sicuro che non ti insidi a me, che prenderesti? Ventrelli. E se invece dovessi portarti dietro qualcuno che in caso proprio dovesse andare male come riservi di cibo, presenti e esclusi, chi è che porteresti dietro? Cosa vuol dire? Che mi porti... Da mangiare. Da mangiarmelo? Vabbè, assolutamente io a nozzo. Ultima domanda. Sì. Se tu dovessi inventare uno slogan per i tornei estino, per il summer pool, qual si voglia? Cosa mi teneresti fuori, da artista quale sei? Da artista quale sei, intendo quei vittime. Ecco. Guarda, per questo mi dovresti dare qualche minuto. Non so, vuoi staccare, vuoi mettere in pausa e ci penso? Cosa dici? No, la poeta deve concorre al momento come sempre. Che miseria. No, ma io più che uno slogan, io darei un consiglio ai giovani, se mi permetti. Allora, il consiglio ai giovani è questo. Ragazzi, ubriacatevi a fini serata. Se ubriacate all'inizio, poi tocca a noi vecchietti fare le vostre veci. Lo sapete, vero? Stavolta è lei che ero una ferrente. Io picchio desisti, lo dichiaro a tutta Italia. Io picchio desisti e gli spezzo pure la noce a Capocollo. Per il Parma Volley Academy. Fabiana Antignano. Vettrice Bellotto. Presentatevi. Fabiana Antignano è nata il 30 giugno del 95 a Milano e frequenta la seconda liceo nel psicopedagogico di Parma e gioca nel ruolo di centrale. Vettrice Bellotto è nata alla Spezia il 18 luglio 94, studia al liceo scientifico e parola di Palleggio. Bea, descrivi la tua compagna con una parola. Super. Fabi? Teneralla. Come vi trovate a Parma? Molto bene, è il terzo anno che sono qua e mi trovo bene. Anch'io mi trovo bene, per me è il mio primo anno e tutto va. Ci torneresti? Sì, sì, penso di rimanerci. Bene, ora ditemi i segni zodiacali in ordine. Allora, va. Acquario, pesci, ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno. Giocatore preferito? Eleonora Lobianco, taglia vero. Bene, cosa ne pensate delle finali nazionali? Cosa significano per voi? Penso che possa essere un buon risultato, che possiamo raggiungere di squadra e possa ricompensare tutti i nostri sacrifici di quest'anno. Penso che sia un'opportunità che a me non è mai capitato di fare e che è un obiettivo per tutti noi e visto che per alcune ragazze qui è l'ultimo anno di Under 18, penso che sia un bel traguardo. Fabio ha detto che la tua giocatrice preferita è Terra Aghiero, ma non è una centrale, come mai? Perché è una gran giocatrice e perché è una grande, cioè non so come descriverla più di così, è proprio super. Va bene, grazie. Io voglio aggiungere una cosa. Adesso votate Eleonora Lobianco come portaballiere. Grazie. Siamo qui al Palabodoni, si è appena conclusa l'ultima partita della seconda fase interprovinciale del campionato Under 16 con la vittoria per 3-0 della Coppa Rossa. Grazie a questa brillante vittoria la squadra allenata da Giovanni Enrichiello accede all'ultima fase del campionato regionale. Allora innanzitutto chiediamo a Gianni di fare un breve riassunto, un prospetto di come è andato fino a questo momento il campionato delle sue ragazze. Guarda, è stato un campionato veramente esaltante perché penso che in tutto l'anno, concedimi forse un errore, abbiamo perso soltanto tre volte in torneo. Partiti ufficiali non abbiamo mai perso. Quindi sai, soltanto con questi risultati puoi immaginare la soddisfazione per un allenatore. Le ho viste crescere sempre, ho avuto la fortuna di trovare un gruppo bellissimo, ma bellissimo al di là del fatto tecnico. E proprio come persone quando sono in campo riescono proprio a mettere questa voglia, questa volontà di non perdere. Ed è un piacere proprio stare con loro in palestra. Quindi tanta tecnica ma anche tanta voglia e determinazione. Abbiamo qui Martina che è stata convocata, però vorrei farti prima un paio di domande ancora. Se tu dovessi elogiare qualcuno in particolare, non tecnicamente o dire chi può avere un futuro degli altri, però da prendere come esempio, dire questa non ha mai mollato in allenamento, eccetera. Uno o due nomi, ciò che è difficilissimo e impossibile. È una domanda che non devi fare a nessun allenatore, lo sai, quindi io mi devo rifare alla risposta consueta. L'unica cosa che ti posso dire, credimi, ci conosciamo da tanto tempo, se no ti direi guarda non ti rispondo e finisce lì. È un gruppo che secondo me è forte per come è messo insieme. Non so se a tirarci via un tassello può cambiare qualcosa. Sono quei meccanismi che capitano ogni volta ogni tanto, che non dipendono neanche forse tanto dall'allenatore. Però quando li trovi e devi cercare di salvaguardare il più possibile nella loro competizione. Quindi a proposito di tasselli, abbiamo parlato di volontà e di determinazione. Abbiamo qui un campione che ha giocato con tanti campioni, per cui ne approfittiamo per fare anche una domanda, se vogliamo, extra al momento. Tra i tanti campioni tu hai sempre portato uno come esempio di determinazione, grinta e volontà in campo. Non ha giocato a Parma, ha giocato con lui a Ravenna. Se hai un aneddoto per descrivere qualcosa di Karch Chirali, che lo possa descrivere da questo punto di vista qui come esempio. Karch Chirali come aneddoto io ti posso dire soltanto una cosa. Finale del Mondiale in Brasile, contro penso il Banespa, quindi che era tutta la nazionale brasiliana. Eravamo lì penso al Maracana Signo, qualcosa del genere, forse il San Paolo. Comunque non è questo importante. Riscaldamento con questi qua che veramente erano impressionanti. Io ero con lui che ci scaldavamo e dicevo, caccia, questi qua secondo me ci passano sopra il muro. E lui mi fa, Gianni non ti preoccupare, li prendiamo in difesa. E io ero lì con Marco Venturi e dice, vabbè queste ragazzi sono le solite frasi che si dicano. Inizia la partita, prima palla presa, seconda palla presa. E appresso a lui tutti, vinte 3-0. Tu hai fatto tanti anni a Parma, hai fatto questi tre anni a Ravenna, però quegli anni a Parma abbiamo subito tanto queste prese di Chirali, mi ricordo, come si soffrivano anche negli spogliatoi. Ti ringrazio e approfittiamo allora della presenza anche di Martina, Martino Natanini. Dunque... Fammi presentare questa ragazza. Esatto, ti dicevo questa cosa, tu me la presenti tecnicamente e poi... È una ragazza che è molto giovane, è del 98 quindi potete immaginare, e guardate che doti fisiche che ha. Ha un aspetto che secondo me è fondamentale. Lei è un attaccante. E quando dico attaccante, lei ha il talento dell'attacco. Per lei ogni palla che è sopra un metro della rete va schiacciata. E questa è una dote grandissima. Poi la tecnica ce la si mette, ma questo, quando è queste cose qui, sono belle cose da trovare. Perfetto, ti ringrazio intanto e chiediamo a Martina se... Dell'andamento della stagione ha già parlato il tuo allenatore. Tu hai aggiunto soddisfazione a soddisfazione. Sappiamo che sei anche stata convocata. Se vuoi parlare un attimino di questa tua esperienza, di cosa ti aspetti da questa tua esperienza. Beh, per me è stato molto piacevole confrontarmi con le squadre del mio livello, soprattutto al torneo che abbiamo appena fatto a Modena, il torneo Bustinello. E mi sono molto divertita, anche perché ho potuto imparare qualcosa dalle altre squadre, osservando il loro gioco. Scusa, un'ultima domanda, poi ti lascio andare. Gianni ha detto che tu non hai paura di attaccare, è la predisposizione al coraggio, diciamo, il coraggio quando la palla viaggia appena sopra la rete. In questo ruolo qui di solito si intravede un opposto o... Adesso esiste anche il ruolo della seconda banda, del secondo schiacciatore, da quando è stato introdotto il libero. Se tu dovessi vedere una prospettiva nel tuo futuro, in quale ruolo ti vedi meglio? Beh, io sono stata allenata in questo anno a giocare sia opposto che banda, opposto dalla selezione, banda da Lorenzo. Io mi trovo bene in tutti e due i ruoli, a me basta attaccare. Quindi, quindi è già questa la dice lunga. Perfetto, grazie mille a tutte e due. E in bocca al lupo per la seconda fase, ciao. L'attore del San Polo Volley, ti chiediamo un... Stai guardando stranissimo. Ah, ti chiediamo un resoconto sulla stagione dei tuoi ragazzi e un attimino fare... darvi un voto. Ma direi che al momento attuale la stagione può essere da sette e mezzo otto, nel senso che siamo terzi in classifica da soli, abbiamo tre punti di vantaggio sulla quarta e purtroppo, a causa di troppi tie-break fatti e anche se vinti, abbiamo perso punti, siamo a otto punti dal secondo posto e a undici dal primo, con un po' di rammarico probabilmente che si poteva fare forse qualcosa di più. Però siamo molto contenti che, insomma, ormai l'obiettivo dei play-off è quasi matematicamente raggiunto ed è un obiettivo stagionale. E la sorpresa della tua squadra, chi può essere... chi è che ti ha sorpreso positivamente, quindi i tuoi ragazzi, dai? Ma, diciamo che... Forse due, un ragazzo giovane che è Riccardo Tonelli, il palleggiatore che a 19 anni non conoscevo e alla fin fine ha sempre giocato e si è dimostrato all'attezza della situazione e un altro, un po' più anziano, che è Luca Bucci che devo dire che, malgrado i suoi 40 anni passati, ha ancora tanta voglia di far bene sui campi da pallavolo oltre che da calcio. E sempre nel tuo gruppo, chi è che ha più la testa da Summer Tour, nel bene e nel male? La testa da Summer Tour, ma di ai sicuramente Cocconi, che effettivamente anche Gianluca Campi si difende abbastanza bene come Summer Tour, come partecipazione. Ok, ti ringrazio molto. In sella alla bersagliera! La testa già è la esperienza del nostro obiettivo, ecco, non è un po' di cose. Grazie a tutti.